No, c'è questo catanese, questo catanese entra in questo bar nuovo, il catanese quando c'è un posto nuovo entra con quella espressione, quella faccia, si mette la mano del re, la panza, andavanti io da lì, pare che sono la cattari, io da lì, c'era questo bar nuovo catanese quando c'è un posto il banconista, che voglio dire, il banconista è facile, io chiedo con il gilecco e ad aderita c'è il papillon, come si chiama? Ad aderita, il banconista non si scappa, tra l'altro è il re rovango quindi può essere il banconista, però il catanese non è che il liscio, il deve fare sempre il preambolo Lei chi è da qua? Dici prego signore, si accomoda Bello è questo bar, capite? Sambuca E che manca Sambuca, un bar nuovo può mancare mai la Sambuca E allora mi resta una Sambuca Lui gli versa la Sambuca, la beve, passano cinque minuti, non è che ne può ordinare un'altra regolarmente come ognuno di noi No, sempre il preambolo Ma che non avete ancora da Sambuca? E allora mi resta una altra Sambuca, no? Seconda Sambuca Passano cinque minuti, stesso discorso di prima Ma che è stato chiudere, no? E allora mi resta una altra Sambuca, terza Sambuca, quarta, quinta, sesta Sambuca E allora il banconista dice, beh, però ora ha avuto assai Anzi, perché gioca io non potessi vivere Perché perché? Che hai? Due ore e cinquanta Giuseppe Castiglia Grazie Giuseppe Castiglia Grazie a tutti